Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Roma, un chilometro di coda per incidente in Galleria al chilometro 296-600 tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Varico Baccheraia. Possibili disagi per una manifestazione in uscita a Valdichiana provenendo da entrambe le direzioni. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Genova in uscita provenendo da Genova. Per quanto riguarda i treni, fino alle 17 è indetto uno sciopero del personale del gruppo FS Italiane Italo. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!